Quando i massivi attacchi frontali sono arrivati, li trovavamo con una huricane di fire. Il giro impatto fu soprattutto sonoro, in quanto l'artiglieria terrestre e navale batteva la nostra zona, incerzantemente. Fu formato un gruppo d'artiglieria, sempre nell'ambito del barbarico. E li abbiamo operato, però gli americani individuavano il fuoco di controbatteria. Per non farci colpire, torniamo a continuamente portarci. C'è stato un battibecco con i tedeschi, in quanto il generale che comandava quel settore voleva smembrarci. Il nostro comandante, il comandante Bardelli, non ha accettato. Noi si vuole un settore nostro, di cui siamo responsabili noi. Adesso